Siamo al cimitero di San Lazzaro con i tecnici del comune che stanno verificando lo stato delle piante per poterlo riaprire. Siamo con il dottore forestale Riccardo Paganini che ha fatto un grande lavoro in questi giorni, tutta l'indagine che ci spiega qual è lo stato dell'arte in questo momento. Sono state monitorate 637 piante qui al cimitero monumentale, di queste 193 hanno subito dei danni per questo ultimo evento meteorologico particolare, da lieve a più grave. Sono cadute 4 piante, qua ne vediamo alle nostre spalle una. Saranno da sostituire 19 esemplari e questo per una serie di ragioni. Oltre all'evento meteorologico particolare ci sono problemi per quello che riguarda gli apparati radicali delle piante che sono molto superficiali visto la presenza del tufo a meno di un metro di profondità. Sono quasi tutte le piante che sono cascate o che hanno avuto danni sono della varietà orizzontalis del cipresso, quindi una varietà, una pianta con una chioma molto più espansa che ha fatto un effetto vela con il vento. E' una distribuzione degli abbattimenti delle piante più danneggiate quando alle spalle non avevano nessun riparo. I primi provvedimenti quali saranno quindi? L'abbattimento, l'eliminazione di quelle già cadute, l'abbattimento di quelle pericolanti, in tutto parliamo di 19 esemplari su 637 e quindi la riapertura velocissima delle varie zone del cimitero monumentale e poi un piano di recupero, di ripiantumazione là dove serve anche per proteggere quelle che rimangono evidentemente. Le piante sono state abbattute da un vento fortissimo, qual è stata la caratteristica di questo vento? Quanto andava veloce questo vento? La caratteristica del vento non è stata tanto la direzione che è risultata essere più o meno quella del vento dominante, parliamo di nord-est, provenienza. La velocità si parla di raffiche con punte intorno tra i 90 e i 100 km orari in corrispondenza di venerdì mattina verso le ore 9. Si è mantenuto sopra i 50 km orari come raffiche massime anche per tutta la giornata di sabato e infatti un ulteriore cedimento nella parte più lontana qua da noi è stato anche il sabato mattina, cimitero chiuso. Questa particolarità, cioè questo vento così forte in concomitanza dei parametri di cui ho parlato prima ha portato a questi danni. Quindi hanno fatto bene a chiuderlo immediatamente? Fondamentale perché ancora adesso ci sono delle piante pericolanti in piedi e ci sono dei danni evidenti anche alle strutture. Quindi oltre alle piante ci sono stati danni anche al tetto della chiesa, vetrate, rotte, quindi insomma ci vorrà un qualche giorno immagino per il recupero pieno. Per risistemare tutto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.